In questo video andiamo a vedere cosa rende il corso SMM di Marketing Genius qualcosa di completamente diverso rispetto alla maggior parte dei corsi e dei percorsi di formazione presenti oggi sul mercato italiano. Il primo punto che rende unico il corso SMM è proprio la struttura del corso stesso. All'interno della maggior parte dei percorsi di formazione, purtroppo, c'è spesso troppa teoria e davvero poca pratica. Mancano le competenze, mancano le abilità concrete da impiegare sul mercato del lavoro e quando uno studente termina un percorso di studi poi si approccia al mondo del lavoro e nota che quello che ha studiato è completamente diverso rispetto alla realtà. Invece all'interno del corso SMM di Marketing Genius abbiamo voluto mettere la pratica al centro di tutto. È un corso in ordine logico e sequenziale dove passo dopo passo impari esattamente prima di tutto cos'è un social media manager, quali sono le mansioni che andrai a fare e poi ovviamente come promuoverti davanti ai tuoi possibili clienti, acquisire clienti e poi andare a gestire completamente il loro marketing digitale. La maggior parte delle lezioni sono infatti proprio a schermo condiviso dove ti mostriamo click dopo click esattamente cosa fare una volta che gestisci i social dei tuoi clienti e questo davvero non apprezzo proprio perché rappresenta una guida pratica e concreta su quello che andrai a fare direttamente con i tuoi clienti. Questo abbiamo visto che aiuta tantissimo i nostri studenti proprio perché una volta acquisito un cliente sanno esattamente come comportarsi giorno dopo giorno e sanno esattamente ogni singola cosa che bisogna fare per portarlo a successo evitando quindi fallimenti, evitando di perdere questi clienti ed evitando di bruciare la propria reputazione. Il secondo aspetto che rende unico il corso SMM di Marketing Genius è il supporto. Non solo abbiamo creato un gruppo Facebook dove ci saranno i nostri tutor pronti ad aiutarti in ogni momento ma i nostri tutor organizzano anche sessioni di domande e risposte live per supportarti e darti aiuto durante il tuo percorso. Questo è completamente diverso rispetto a quello che succede in molte università o in molte scuole quando gli studenti terminano un percorso di studi e poi sono essenzialmente abbandonati a loro stessi. Non solo questo, oltre alle sessioni di appoggio dei nostri tutor, abbiamo anche accesso diretto a tutto il team di programmatori di Marketing Genius. Questo significa che proprio tu, social media manager, avrai a disposizione il nostro team per qualsiasi dubbio, problema o anche se il tuo cliente un giorno dovesse farti richieste di tipo tecnico troppo complesse come per esempio disegnare completamente da zero un sito web o creare qualcosa di difficile a livello tecnico sul suo sito. Ecco, non ti preoccupare perché in ogni momento con un semplice clic avrai accesso alla chat diretta con i nostri programmatori che potranno sempre darti una mano. Questo è incredibile perché oltre ad avere accesso ad una formazione di altissimo livello avrai anche sempre pronto il nostro team per aiutarti e supportarti e non rischiare mai di trovarti impreparato. Un altro aspetto che rende unico il corso SMM di Marketing Genius sono gli strumenti che abbiamo incluso all'interno di questo corso e abbiamo pensato davvero ad ogni singola cosa di cui tu possa avere bisogno. Per prima cosa c'è la tua pagina web disegnata dai nostri programmatori. È una pagina web altamente professionale già pronta, chiave in mano, dove dovrai solamente inserire la tua foto e la tua descrizione e poi sarà subito pronta per te. Sappiamo quanto è importante per un social media manager avere una forte presenza digitale e abbiamo pensato quindi che questa pagina web ti sarà davvero d'aiuto come primo biglietto da visita per i tuoi clienti quando cercheranno il tuo nome su Google o andranno a vedere di che cosa ti occupi. Abbiamo poi il nostro report, lo riceverai già preparato dai nostri grafici. Questo ti sarà davvero d'aiuto perché ogni volta che ci approcciamo ad un nuovo cliente si parte proprio con un'analisi gratuita e il report è lo strumento che ti aiuterà a far percepire ai tuoi clienti il tuo valore come social media manager e soprattutto la tua intenzione di aiutarli per davvero. Consegnando questo report altamente professionale le persone infatti diranno wow questa è la persona che io sto cercando e non esiteranno ad assumerti come social media manager. Abbiamo poi pensato di includere le grafiche da social media manager. Queste ti aiuteranno ad avere già il tuo logo e ovviamente a migliorare la tua presenza social. Abbiamo poi pensato anche ai contratti. Infatti abbiamo chiesto al nostro team di avvocati di preparare una serie di contratti già pronti per te con l'obiettivo di mettere nero su bianco quello che sarà il tuo lavoro con il tuo cliente. I contratti infatti hanno l'obiettivo di tutelare il tuo lavoro, di assicurarti di essere pagato ma anche e soprattutto di proteggere quella che è la tua attività. Non dimenticarti infatti che andrei a lavorare con i dati sensibili dei tuoi clienti, avrei accesso ai loro social network, avrei accesso alla loro rete di clienti e moltissime informazioni sensibili. È quindi importante che tu sia protetto in ogni momento e questi contratti hanno proprio questo obiettivo. E per ultima la cosa più importante il corso SMM non è un semplice corso sul digital marketing ma è un vero e proprio ecosistema. Di recente infatti abbiamo lanciato la piattaforma socialmediamanagers.org che ha una missione importante, la missione di unire tutte le aziende e i professionisti italiani con i migliori social media managers presenti oggi sul mercato. Essendo nostro studente avrai infatti la possibilità di unirti alla piattaforma socialmediamanagers.org ed entrare in contatto ogni giorno con decine di professionisti ed imprese che stanno già cercando un social media manager specializzato nella loro nicchia. Questo ovviamente ti aiuterà ad avere maggiore visibilità online, rafforzare la tua credibilità ed entrare in contatto ogni giorno con nuovi possibili clienti. Sono davvero orgoglioso di questo progetto che finalmente mette al centro le esigenze dello studente creando un ecosistema in grado di appoggiarti in ogni momento durante il tuo percorso di crescita e soprattutto un percorso totalmente incentrato sulla pratica e sulle cose concrete, le cose che poi andrei a fare a partire da oggi sul mercato del lavoro. Mi auguro quindi di vederti all'interno del corso SMM, tutte le informazioni sono all'interno di questa pagina e non esitare a contattare il nostro supporto per qualsiasi domanda. Ti mando l'abbraccio e spero di vederti presto all'interno.